Pippi calzelunghe di Astrid Lindgren illustrato da Ingrid van Niemen Pippi fa una scampagnata Le scampagnate mi creziono tantissimo anche a me Quella stupida mucca non si vuole spostare Già, le mucche a volte sono cocciute come i tori Oh oh, speriamo che in questo prato non ci siano tori E qual è la conseguenza? Che i tori diventano cocciuti come mucche Che meraviglia, cos'hai nel cestino Pippi? Sediamoci su quel mazzo e mangiamoci il nostro picnic Oh, quante cose buone Posso avere un'altra frittella? Pippi, stai attento a non cadere Io non cado mica Volo! No, non ce l'ho fatta Mi sa che avevo troppe frittelle nella pancia Nel frattempo il signor Nilsson era andato a farsi una passeggiatina per conto suo Stupido di un signor Nilsson E' scappato anche a Surabaya Si era fatto assumere come domestico da una vecchia vedova Un toro Un toro! Aiuto Pippi! Aiuto! Un toro! Un toro! Scusa se ti interrompo In Spagna fanno così E io faccio così E a volte così Sì